C'è veramente una droga scrollare Per fare una doccia quattro ore ti sto pregando Io spesso faccio la doccia col telefono in mano E poi devo lavarmi la parte del telefono Quindi lo appoggio un attimo Ma ci metto qualcosa, capito? Un video, qualcosa Io l'aventusa l'attacco sulla vasca Ho avuto un rapporto molto più sano con la morfina in ospedale Muschio selvaggio E' il podcast più figo Noi qui ascoltiamo Non insegniamo Ah, quindi un'intervista E non ti preoccupare Se il mondo continua a bruciare Muschio selvaggio E' qui per te Io l'ho reso un dump phone Adesso è così il mio iPhone Così Scusa, ma da quando è che si può fare quella cosa che fa? Con un'applicazione Che fa degli shortcut E li metti qua E adesso non posso, tipo io Alle tre non posso più usare Instagram, Youtube, TikTok Io invece ce ne ho due Due telefoni Ah, quel coso è comodo E' la ventosina da specchio E' la ventosina da TikToker Ma scusi, io non ho capito comunque come Allora, è un'app che ti Dambifizza il telefono Te lo rende stupido Cioè ti toglie le Le funzioni E poi ho detto Fammi usare i social solo tre ore al giorno Quando mi serve Dalle 12 alle 15 E poi non ho più tutti quei colorini E distrazioni Dello schermo Che appena apro Io anche se devo guardare una cosa Poi finisco su un'app sbagliata E scrollo due ore E abbiamo una dipendenza vera Ti sta dissaturando un po' Sì, ce l'ho dato due giorni E l'ho usato 40 minuti Cioè proprio da zero Da 100 a zero Ma se decidi di cambiare idea Puoi Sì, sì, sì No, ma in realtà Puoi scappare Cioè faccio così E ho tutte Se lo sblocchi Non esiste niente Sì Cioè La fuga da San Patrignano Insomma Sì, questo è veramente No, io Sono delle banecche di marzapane Questi sono cliccabili Cioè io clicco YouTube E mi apre YouTube Dopo me lo fai Sui miei due telefoni Sì, davvero Magari che Non so come vivi tu il telefono Ma io lo Lo vivo male Ti risucchia Dottoressa E poi il tema della puntata Vogliamo introdurre gli ospiti? Dottoressa Cristina Mazza E Greta Mink Ciao Ah, benvenute Dottoressa, perché dottoressa? Allora La mia professione Consiste Quella di psicoterapeuta Consiste appunto Nell'effettuare Dei colloqui Di psicoterapia E quindi puoi strutturare Dei percorsi di psicoterapia Con dei pazienti E questo privatamente Accanto a questo Proprio perché la psicologia È abbastanza variegata Ci si può mettere Anche dell'altro Quindi Lavoro in università Ho un assegno di ricerca All'università Sapienza Faccio i papers Faccio i papers Esatto E poi Lavoro anche come Psicodiagnosta Consulente di parte Specialmente Per il tribunale Civile Quindi nelle case Nelle cause in cui C'è I genitori si contendono L'affido dei minori C'è da valutare Le capacità genitoriali Si chiamano E quindi Chiamano un esperto Per la valutazione Sia psicodiagnostica Che poi Del costruzione Che responsabilità Madonna E poi Abbiamo Greta Greta Menchi Come stai? Chi sei? Sono Ti ho colpito Con due domande Intense Diciamo che dopo Questa intro Sono Sono speechless Dottoressa Io non so fare Le presentazioni E dire che sei Una professionista Cioè tu Sei una delle primissime Youtubers Influencers Della storia italiana Sei arrivata prima Che fosse Considerato un mestiere Era anzi Visto male No? Fare video su internet Mi ricordo che Quando andavo a scuola Mi ricordo Una mattina Stavo riprendendo Forse uno dei miei primi video Greta Take School Stavo riprendendo Tutto il tragitto Poi sono arrivata Davanti a scuola Con il telefono Così Che stavo riprendendo E letteralmente Tipo Tutto il mio gruppo Di amici Si è splittato Per dire Oddio Che sta facendo Non erano Non erano abituati A essere filmati No era tipo Questa parla da sola Su internet Cioè tipo Torna a casa E parla da sola E non era per niente Fico Anzi Io sentivo la mia voce Nel giardino Nei corridoi E facevo tipo No Perché ti guardavano? Sembrava tipo Il get away Capito? Era tipo Scappare Tra virgolette Dalla routine Dalla vita quotidiana Dal Da qualcosa Che non mi nutriva Di meraviglia Perché io facevo Avevo una quotidianità Molto rigida Cioè Andavo A scuola A Righi Che è uno dei licei scientifici Più Impegnativo di Roma Quindi molto Una scuola molto Anche di Bologna Sì Facciamo Righi Che è lui Signor Righi Evidentemente Poi facevo Un uoto agonistico Quindi Uscivo dal liceo Mangiavo in macchina La pasta E poi andavo a nuoto Mi allenavo due ore Poi facevo Un'ora di palestra Poi tornavo a casa Studiavo Quindi Poi non dormivo Perché non dormivo Quindi poi Io ho iniziato A montare i video di notte E quindi facevo tipo La staccanovista del liceo Cioè Vedi la giornata piena No non so Come sono sopravvissuta Ma scusa Come hai iniziato? Perché hai voluto Iniziare a filmare le cose? L'hai visto fare in America E l'hai importato? Allora Sicuramente io Già guardavo Dei video su Youtube Ed era come un po' Tipo veramente Una cosa Cioè una cosa Che mi faceva staccare Tipo Chi guardavi? BF vs GF? Prankster vs Prankster? Guardavo Dei Guardavo Sì tiktoker In anticipo In anticipo Ecco spiegato Guardavo degli Youtuber inglesi Tipo Caspar Lee Joe Joe and Caspar Che sai Che sai Che poi Poi li ho conosciuti tutti Ho lavorato insieme Con Joe E in Caspar Abbiamo fatto Che loro hanno fatto Tipo un film Che sono venuti in Italia È stato bellissimo Infatti tu hai fatto una scalata Velocissima Quando nessuno lo faceva Su Youtube Tu Inizi a condividere La tua vita online Con una dinamica Che neanche tu conosci Perché non hai Proprio grandi Mezzi di paragone Quindi un po' Insomma lo fai Come più ti emoziona Ed è bello Perché c'è La creatività Quindi C'è anche il fatto Che io Porto a casa Delle clip E poi la vera Creatività viene Quando io poi Inizio a montarle insieme Quando inizio tipo A capire Che storia Voglio raccontare Ed è come se Nutrissi questo flusso E diventa una cosa Bellissima Ed è La verità è che È proprio C'è una dipendenza Cioè io Voglio riprendere tutto Voglio portarmi a casa Tutto quello che posso Perché so che poi Posso farne Qualcosa Di bello Io quando premio Export Da Final Cut Faccio tipo Grazie Capito Queste cose di noi montatori Ma infatti Non so come la vivi tu Però io la vita La vivo come Un enorme Sembra molto Sdolcinata È un enorme film Sì Ci sono delle parti Che taglio via Delle parti Che tengo Di base Le memorie che ho Legate al passato Sono legate a cose Che ho filmato Che ho negli hard disk Stanotte mi è successa Una cosa assurda Riguardo questa cosa Che hai detto Allora Mi volevo mettere Un fiocco bianco Un fiocco bianco Oggi Ok Che ne hai fatto rosa Cioè Assolutamente Poi mi mancava L'altro fiocco bianco Quindi Ho smontato casa Per cercare Quest'altro fiocco bianco Mentre smontavo Il fiocco bianco Mi ricordo Che ho una tutina Bellissima Nera Che ho una tutina Nera Bellissima E ho detto Ah potrei Mettermela domani No Questo succede uguale a Martino Ogni volta che dobbiamo Registrare muschi Ti faccio finta Di mettermi Le prime due cose Che trovo In realtà Smontare casa Cercare i fiocchetti Allora vado Mi approccio A questa cassettiera Che è veramente Ricolma di cose Sopra I cassetti Non si aprono Perché ci sono cose Anche davanti No Non scopro Che tipo Il primo cassetto Che è tipo bloccato In realtà Perché non si apre così Si apre da su Ok Però c'erano tutte cose sopra Non lo sapevo L'ho aperto E ho messo il flash dentro Perché curiosissimo Cioè in tutto questo Erano le due e mezza Io non ho dormito Cioè hai scoperto Un cassetto segreto Che non aprivi da anni Sì Ma lo sai cosa c'era dentro Tipo Un pacco di foto Proprio Con i Contenitori della Kodak Così Ho fatto Tiro fuori Uno a uno Perché tipo Non mi bastava la mano Tutti questi pacchi di foto No C'erano tutte le mie foto Di quando ero piccola Quindi da che cercavi Un fiocchetto bianco Sei stata un'ora o due A riguardare il passato Incredibile Cioè Quelle cose che tu dici È un sogno lucido È successo veramente Oppure Cioè sai quando c'è quei buchi Come hai detto tu adesso Non me l'hai fatto venire in mente Quando hai detto Cioè non ricordo altro Ricordo quello Perché l'ho filmato E anche io tipo Ricordo Dettagli specifici Anche di determinate cose Però è come se facessi tantissima fatica Ad avere una linea temporale Nella mia vita È come se Ci fossero tipo Dei puntini Tipo Ah mi ricordo Quel momento A scuola Alla macchinetta Non riesco però a ricordarmi Che anno fosse Quanti anni avevo Dei flash di lucidità Delle core memories sparse Sì Ma secondo voi Siamo solo quello che ricordiamo? Damn bro Fuck Professoressa che ti dici? Assolutamente no Eh Sì era retorica Esatto Ritoricissima Posso darti del tuo? È certo che sì Stai ascoltando Sono un po' abituata a farlo Infatti Giustamente Forse di formazione professore A fine puntata ci fai 15 minuti Di restituzione Come si dice Il breakdown Esatto Di tutto ciò che Qual è il tuo craving In questa dinamica? Il tuo? Il tuo craving Cosa cerchi? Che ti nutre Cioè Tu Tendi a fare dei contenuti Che sono molto Hanno Una ritmica giusta Cioè comunque Non sono Sono diverse ad esempio Da quelli che metto io Che sono molto più lanciati Cioè magari il mio craving È sul momento istantaneo Cioè sulla comunicazione istantanea Sul lanciarlo subito Lo fai oggi Lo editi e lo tiri fuori Devo farlo E non mi interessa Ovviamente Sono molto perfezionista Anche io Però In realtà questi stanno scroccando Una seduta Secondo me sì No io Io l'ho detto Prima Si è prenotata Dove ti venisse idea Possiamo avere la stessa terapista No comunque Io trovo soddisfazione anche in quello Cioè in un contatto diretto Ho iniziato tutto Perché mi sentivo sola Nella mia dinamica quotidiana E avevo bisogno tipo di Amici Che uscissero da Righi Che uscissero dal tuo liceo Sì grazie Che ce ne fossero altri Sì proprio Di un contatto Alla fine non te le scegli Le persone che hai in classe Però comunque Se inizi a parlare di tabù E cose Altre persone fanno Mamma mia Anch'io mi sento così Cioè è estremamente quotidiano È estremamente semplice Non è nulla di Di strano No Però il mio craving È proprio quello Di cercare il contatto Con le persone Con chi vive le tue stesse cose E tu qual è Perché tu sei molto più Almeno da come ti percepisco io E tipo guardatemi Guardate che bravo No 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 Sì per me Si può dire che entrambi Adottate Una formula artistica Cioè avete un media Che sono I social network I video eccetera E li utilizzate per Arrivare al prossimo Esprimervi Sì io penso Io dico sempre Se sapessi parlare Cioè il giorno che imparo a parlare Smetto di fare video È quello Chi sa parlare di solito Usa la comunicazione orale Parla Parla per dire le cose Il montaggio Come forse anche per te È un mezzo di comunicazione È un modo di dire Meglio le cose che vuoi dire Che non riesci a dire Per me è più Azione E E tagli La mia comunicazione Più che stare a parlare Tranne che Tranne in questo momento Dove stiamo È una dipendenza però Sì È una forma di dipendenza Mi va via Aspetta Però è quella dipendenza Del Non poter fare a meno Del prossimo Cioè siamo animali sociali Queste sono strade Per arrivare all'altro Ma su questo Ne stavamo parlando Proprio Anche ieri sera Sì Vero Concordo Però dipende poi Il rinforzo Dell'altro Quanto diventa Necessario E quanto poi Senza il rinforzo Positivo dell'altro Che può essere Like Può essere Il commento positivo No Tu poi non esisti Cioè La presenza dell'altro Diventa e qualifica La tua stessa esistenza Quanto ti appoggi sul prossimo Per trovare Conferma di te Quanto senti Almeno io lo vedo poi Anche Con i miei pazienti Soprattutto quelli Più giovani Insomma Quanto poi Senza il feedback Positivo dell'altro Che diventa Un riconoscimento Ti angosci E senti proprio Di Di non esistere Non riesci A A pensarti A pensare Di avere una forma Al netto Di quello che l'altro Ti restituisce E questo secondo me È molto pericoloso Cioè diventa Sempre più pericoloso Perché Nel momento in cui L'altro Non ha Che può essere Che ne so Appunto Un feedback positivo Un like Un provino passato Un like su una foto Non c'è Che cosa ti succede? Cioè E questa secondo me È la vera domanda Perché tanto ormai I social Ci sono Ci sono Siamo cresciuti Con i social Quindi È verosibile Pensare che non ci Saranno più Però Sarebbe importante Che Riuscissimo Un pochettino A distinguere Quella che è La formazione Della nostra identità Da quello che ci viene Restituito Dall'esterno Poi di base Per le nuove generazioni È una sfida E che è la loro realtà È la loro realtà Ma è proprio La loro esistenza Cioè A me quello che colpisce È che Rispetto alla mia Degenerazione C'era Un obiettivo Ok Quindi magari C'era un'attività In cui tu ti impegnavi E anche lì Puoi trovare Degli ostacoli Che erano L'equivalente Del non like O del commento negativo No Però l'interesse Era specifico Per qualcosa Che era altro da te Mentre adesso Diventando tu L'oggetto Quello che succede È che se non hai Il like O il feedback Positivo Manchi di valore Senti proprio Di non esistere Ma di non avere valore Mentre Forse un po' anche Non voglio dire il segreto Però Una buona indicazione Per la salute mentale È Distinguere Il valore personale Da quello che fai E quindi Provare a investire Su qualcosa Che sia altro da te In modo tale Che la realtà Non venga sempre misurata In termini di C'è un feedback positivo Quindi valgo C'è un feedback negativo Quindi non valgo Che calo numeri Uguale Non sono più Una persona di valore Mi metti in crisi Proprio Una delle fondamenta Su quale si basano i social Cioè Express yourself Parla di te Di cosa ne pensi Sì tu Il protagonista Della tua storia Evidentemente Se uno Riesce ad anteporre Una narrativa Un Un oggetto Di indagine artistica Può sublimare Se stesso E non essere Direttamente coinvolto Nella affermazione Di sé Ma è l'affermazione Del suo lavoro Esatto Però attualmente La formula è Le persone portano se stessi Vi piaccio Poi se stessi Esatto E diventa uno stilicidio Perché capisci che Non possiamo piacere a tutti E che così come Anche nelle relazioni Della vita quotidiana Capitano Le rotture Poi ci sono le riparazioni Però Far dipendere Costantemente La propria Integrità Da quello che succede Da quello che ci arriva All'esterno È Veramente Un disastro Assolutamente Tu Greta Sei stata Dicevo prima Sei stata Tra le prime La prima cavia Sì Degli grandi numeri Poi del feedback Sì Guarda Io Apprezzo tanto Quello che hai detto Perché poi c'è da dire Che Anche Il giorno d'oggi Comunque Martin Anche i social Chiamiamole proprio Le piattaforme Per il nome Instagram TikTok Che sono Praticamente I maggiori esponenti Del Quanti like Ha fatto Hanno capito Che Il like Comportava L'espressione O meno Dell'utente E dato che la piattaforma Vuole favorire La pubblicazione Di contenuti In quanto È l'obiettivo primario Lasciare l'utente Per la maggior parte Del tempo possibile Sulla piattaforma E creare i contenuti Adesso Uscì Pochi anni fa Instagram Non mostra più I like Che al tempo Era tipo Ma come Non mostra più I like Capito Come faccio Adesso Gli utenti A capire Con la mia testa Con la mia persona Con la mia idea Se questo contenuto È valido o meno Non vedo i like Che poi Se ci pensi Come non mi piace Di youtube Li hanno tolti Li puoi rimettere Con un plugin E questo potrebbe essere Un'altra Bisogna dare la libertà Di scelta Io sono Libertario Quella lì È un po' Il metodo Jojo Siwa Capito Jojo Siwa Anche lei Teen star Però trasformazione Assurda Perché è adulta Lei Lo sta facendo apposta Comunque Cioè Ci sono delle cose Che si fanno apposta Proprio per quel Non mi piace Perché io Quel non mi piace Mi crea comunque Engagement E posso sfruttarlo A mio favore Se non mi tocca Davvero Quello che poi Pensano le persone Di me Ormai conosci Tutte le dinamiche Le hai viste Riviste Io penso Che una volta Che sei stata Una persona Immersa Completamente Su youtube O comunque Che hai condiviso La tua Cioè Una volta Che ci sei entrato Non potrei mai più Guardarlo Come una persona Come un utente esterno Io ogni cosa Che vedo La riesco ad analizzare In modo molto semplice Anche Il modo in cui Una persona Si esprime Come decide Di creare Un contenuto Con quale dinamica Decide di postare Le cose E un po' Nella mia necessità Di rompere Gli schemi Anche come forma Di ribellione Dopo una grande Forma di oppressione Che ho sentito Sulle mie spalle Di cosa dovevo essere Come dovevo fare Perché ormai Ero quella cosa lì E non potevo uscirne Un po' Sentito La necessità Di distruggere Tutto Capito Cioè A me piace Non aver paura Non dover Per forza Seguire le cose Come devono Io lo so Quali sono i video Che mi portano Mi piace Lo so Quali sono i video Che fanno visualizzazioni Lo so Lo sai pure te Mi sono iscritta Alla scuola di recitazione Che bello La mia vita è cambiata Ho una valvola di sfogo Complicemente diversa Ma io posso fare Tutto In realtà Invece prima C'era questa dinamica Nuova Nasci su internet Tu sei uno Youtuber Fine Non puoi fare nient'altro Ti invitano a fare La giuria a Sanremo Che neanche Come fare la giuria a Sanremo Vai a fare un film Ma come un film Adesso Ma una canzone Ma come una canzone Adesso questa cosa Si è sdoganata Questo non è un tratto In comune Che comunque Deba indossare Una maschera Sociale Cioè quello di sentirsela Stretta a una certa Che sia nel lavoro Nella famiglia Cioè C'è chi ha una certa È messo in crisi Anche solo Da dover ricoprire Un ruolo genitoriale E pensarsi Solo madre O No Questo forse Cioè Può essere Rientra nella pressione sociale Come Di aderire a dei A delle aspettative Da parte del prossimo Sì Indubbiamente Sì Magari in alcuni Sistemi familiari Mi viene da dire Più di altri Però In quello che è Il mio modello Quindi il mio modo Di concepire Il funzionamento psicologico E del fare Psicoterapia Che si chiama Control Mastery Theory CMT Per esempio Quello che stai dicendo È legato A credenze patogene E sensi di colpa Interpersonali Visto che poi Tra l'altro Anche tu citavi Sensi di colpa Venendo Dalla stazione Sì E Ce n'è uno in particolare Che si chiama Senso di colpa Da separazione Slealtà Ed è un po' L'idea Che se Tu ti esprimi In un modo Che possa essere Diverso Da Da quello Del tuo sistema familiare In termini Sia di valori Di set di valori In cui credi Sia In che modo Desideri Vivere la tua vita Il che ti porta Ad allontanarti Ecco perché Separazione Che è una separazione Prima fisica Se vado via Se mi sposto Se sto lontano Dalla mia famiglia E poi Se mi diversifico Quindi quella separazione Che però È più una separazione In termini concettuali In termini appunto Di stili di vita Di modi di pensare Allora che cosa succede C'è un pericolo Da qualche parte C'è un ostacolo E appunto Nell'ambiente in cui cresci Questo può diventare Mamma si offende Deludo le aspettative di papà Piuttosto che altro E questa credenza patogena Poi ti può portare E a strutturare Nel corso della vita Una serie di comportamenti Che ostacolano Il raggiungimento di obiettivi Che possono essere Sani e realistici Quindi sia un'autonomia Fattiva Di comportamento Che poi un'autonomia Di pensiero Quindi Per gestirlo L'idea di diventare La nostra Anna Montana Che da un momento All'altro si è ribellata E ha spaccato tutto E ha spaccato tutto In un modo che però Dipende un po' dal modo In cui tu L'agisci con la ribellione Perché alle volte Ti torna indietro Come un boomerang E ti porta al punto di partenza E ti dice forse Non potevi andare Da nessuna parte Questa è un po' L'idea Eh ma anche perché Tu ti sarai fatta Le tue teorie Però dall'interno Ma io guarda Che mi ci metto Cioè io proprio Sono proprio Mi piace tanto capirmi Sto tanto tempo da sola Studio Leggo tanto A riguardo Mi piace comprendere Le dinamiche Che si creano poi Dentro di me Anche per distaccarmi Anche io lo faccio Solo che è una certa Magari se lo fai troppo Fa proprio l'effetto opposto Overthinkare Cioè stare a scrivere Su un block notice Anche più volte Le stesse cose Perché ci stai riflettendo E tendo a lasciarmi in pace Ma Non mi vessare Oggi con queste cose Come vuoi sapere Di me Non mi vessare La ruminazione È Secondo la ricerca scientifica Uno dei principali Precursori Di 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 psicopatologia Cioè Più che precursore Forse è uno degli elementi Maggiormente associato Con la psicopatologia Cioè Ruminare fa male Per i mugini Continuare a Eh male Psicopatologia Tipo Qualsiasi Ansia Depressione Quindi Poi sì Questo può essere Una malinterpretazione Dell'introspezione Anche che può fare male Sì assolutamente No l'introspezione Non fa male No Una malinterpretazione Sì 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 Assolutamente Anche perché poi Rimogenio Può essere sia Consapevole Di quella Insomma Quando appunto È lucido Ma il più delle volte Può essere anche Un'attività automatica Della nostra mente Quindi in realtà Un po' come se In background Continuassimo A pensare E ad essere attivati Affettivamente Sul contenuto Del pensiero Quindi Non valgo niente Non valgo niente E poi più lo fai Se poi ti fermi E non trovi Un'occupazione Proprio Fisica Proprio Un'attività Capito Qualsiasi attività Letteralmente Devi fare qualcosa Devi uscire Devi trovare Il modo di reagire E partire Da una piccola cosa Anche invece di scrivere Fai queste cose Falle direttamente Quante volte Fare la doccia È tipo Devo attraversare Il mondo Anche perché Tu quando cerchi Un fiocco Trovi le foto Le foto dimenticate E una giornata Alle tre e mezza Mentre piangevo E dicevo Ma domani Io non interpreto Il foglio bianco E le polaroid Giuro Lo farò No Lo faremo Lo faremo In separata Sieme Cristina Gentile No infatti Non vogliamo fare Una seduta Qui però Metti nel cestino Le macchie di Rorsch Perché ti avevo Ti prego Devo consegnare Una domani Le macchie Quelle Cosa ci vedi Esatto No ci vediamo 100% Non l'ho mai fatta Quella cosa Deve essere divertente Comunque fare Poi Cioè capire Cosa succede Io a me è successa Questa cosa Che praticamente Mi sono resa conto Poi Che non c'è stato Mai un momento Non c'era mai Stato un momento Da quando Sono diventata Adulta In cui Ero Solo Greta Greta Basta No io ero associata Costantemente A un pensiero Di anche Di come Vengo vista fuori Che è una cosa Guarda È ingombrante Anche per me Nella recitazione È ingombrante Cioè anche con il mio coach Ne parlo spesso Cioè Non è che ne parlo spesso Insomma Non è il mio psicoterapeuta Cioè È che esce fuori Da ingombrante Tipo la tua fama Ti precede anche Nella tua testa Ti devi levare dal cavolo Capito Ti devi levare Da in mezzo alla serata Perché se no Non vai da nessuna parte E io mi sono resta conto Che Cioè mi sono lasciata Adesso Sto tornando Cioè quando faccio I miei tiktok Cioè le mie cose Tipo I'm back Ma perché veramente Mi sento Che tipo Ok Mo Ho avuto tempo per me Per confrontarmi Adesso veramente Sono così tanto Interessata a scoprirmi A meravigliarmi A mettermi in gioco Che non mi interessa Di cose Di cose che Non sono rilevanti Per me La tua opinione è rilevante Il tuo commento Può essere rilevante Può essere Qualsiasi tipo Di feedback È un feedback Però è solo quello Quando prima Invece non avevo Secondo me Una struttura dentro di me Per capire Tipo A me hanno tempestato Con la storia della droga Cioè io non sapevo Neanche cosa fosse Tipo La chetamina Non sapevo cosa fosse Ti volevano raccontare La storia della droga In che senso No Secondo me Hanno visto Un cambio di comportamento Da parte mia No Ho avuto un lutto importante Sono successo Determinate cose Ho perso Tanto peso Insomma Non so Tipo poi Fai la maturità Cambia completamente La tua vita Ma sarà che Da quando hai smesso Di parlare Col pubblico Direttamente Si sono iniziati A fare I loro viaggi su di te Esatto E' esattamente Quello che è successo Si si Perché pensano Vabbè Non ci dice Che cosa sta facendo La vedo come La vedo E mi faccio le mie Come Tonio Cartogno Poveretto Come Tonio Cartogno Che appena è sparito Tonio Cartogno È un tossico È morto Si Invece stava benissimo No Stava male in realtà Stava male? Eh beh si Fu sostituito Perché Ah è vero Era sotto ricovero Ha dovuto Non stava bene Vabbè ora sta bene Comunque Ora sta bene Sì ovviamente Non Erano tutte ingiurie Io non ce la faccio Perché mi viene da ridere Anche se è una cosa seria Di Tonio Cartogno No ma perché Tonio Cartogno Tonio Cartogno Perché lui pure Ho visto un'intervista Cioè ho visto che ne ha parlato Cioè io pure stavo diventando Poi ci teneva tanto Andava sul set Pure se stava male Cioè aveva le flebbo Nascosta La mia infanzia sta soffrendo Cambia ogni cosa Ti giuro io Le cassette Mia madre me le registrava Era il mio posto felice La melevisione Sì la melevisione Che andò in onda L'11 settembre Fu interrotta Durante il crollo Delle torri gemelle Facciamo una breve timeline Del tuo percorso Tu hai iniziato al liceo Ti esplose in mano La cosa no? Completamente Hai preso un pubblico gigante Perché eri L'unica forse donna Non lo so Quante youtubers ci fossero Avevo raggiunto Un milione di iscritti Ero stata la prima donna d'Italia Dopo la tipa di PewDiePie Ah sì? Don Marzia Marzia Mi hanno fatto tutta una festa Per darmi il play battle Non ho mai più ricevuto YouTube Te l'ha dato? Non ce l'hai? Non ce l'ho Sai che anch'io Non l'ho ricevuto ancora Potete darcelo a mia Luis Il play button Da un milione? Stefano Signora YouTube Signora YouTube Ciao Sono sempre io Sono passati un po' di anni Ti hai fatto la festa Ma non te l'ha andato? Non ci sono andato Ah ecco vedi Beh senti Non è che c'era Un po' strano Non si poteva far tutto Tutto strano Non è che C'hanno tutti che fanno Ah si fa così così Io non sapevo niente Era tutto nuovo Ma sì La timeline E quindi tu hai iniziato Sei esplosa Popolarità Inizia a collaborare con i tuoi miti Inglesi Americani E poi Decidi di smettere Sì Quando inizio io Mi ricordo Abbiamo fatto così proprio Tu hai Tu hai smesso Io hai iniziato Mi hai passato Giugia testimone Mi ricordo Mi hai rubato l'essenza Devi ucciderlo Per riavere indietro Quel percorso Sì E che io non seguivo YouTube Italia Non avevo idea di In un'altra simulazione Sta succedendo qualcosa Di davvero molto divertente Che intrattiene tantissimo Se tu non avessi smesso Io non avrei mai iniziato Ho detto Devo riempire No era più carina Quella in cui io ti uccido Ah no Così Chiudo È carina Sì Insomma No ma solo perché È più divertente Sì sì No Tanto è È stitissimo A me piace tantissimo Di dare simulazione Uccidere No No Per favore Sopprodanza Se mi girano queste cose Ci fai se c'è qualcosa Fanno la clip Uccide pure No A parte Tu hai deciso Hai detto Ti sei un po' stancata E ti sei presa Ma io ho avuto Secondo me sono successe Delle cose Nella mia vita personale Che non avevo Nessun tipo di mezzo Per saper gestire Cioè per me Era assolutamente normale Parlare con i miei amici Cioè succedeva una cosa Gravissima Cioè invece di andare Alla polizia Io Swash Benvenuti su È successa una cosa gravissima Tuoi amici Sono i tuoi followers Dici Sì ma non l'ho mai considerati Come Cioè proprio tipo Mi triggera la parola followers Cioè tipo per me Letteralmente sono tipo Delle persone Che anche loro Nella loro vita Stanno tipo Cioè vivono determinate cose Ed è tipo Figo fare il commentare Insieme di questa simulazione Capito E quindi Tu l'hai presa troppo Cioè noi Mi abbraccio Cioè tipo C'è un rapporto All'inizio era tipo Tipo No in realtà Tipo È sempre stato Figo Perché cioè tipo Cioè sono amici miei Letteralmente E invece poi È stato malinterpretato Magari Poi io Cioè sì Perché poi è andato viral Cioè è come se Tipo tu fai le cose È cambiata la piatta Allora Con calma e cautela Greta Allora Le cose stanno così Le cose stanno che All'inizio Era un posto safe In cui io trovavo Una casa Trovavo modo Per potermi raccontare Raccontare E condividere anche Delle cose Che dovevano stare lì Ok E internet era fichissimo Le persone Cioè Ci stavano le persone Outsider Ok Cioè sono quelli che Vuoi non hanno amici Poi Io sono andata anche viral Poi la piattaforma È anche cambiata E nel frattempo Andavano viral Anche i miei contenuti Ok Perché ad esempio C'è stato quel video Ai capezzoli a forma di cuore Che aveva dentro Dei temi Importanti Cioè nel senso Quel video Dentro È Cioè capito Ha un peso Quel video Il fatto che io L'abbia chiamato Ai capezzoli a forma di cuore È perché È la cosa che Gli ha permesso Di andare viral E cos'è È uno dei tuoi video Più visti Sì Che cosa succede? Sono tutte piccole clip Tipo a senetta In cui Affronto Cosi che tipo Sono Tipo Che importa Se guardi sempre Quello che mangi Non mi viene Adesso Ti giuro Te lo vorrei di fare Non lo faccio partire Così brava Grata del passato 3 milioni di views 8 anni fa Mi scuso Per il linguaggio Scurrile Non esiste giustificazione Però soffro Quando si giudica Un insieme O una categoria Senza analizzare Il profondo Le nuove persone Ci mette Il profondo A disposizione di tutti Grazie Grata 2016 Perché La mia versione Del 2016 Stava già venendo Impressata Da questa cosa Community Che si scontrano Community Che si scontrano Sì Facciamolo È fun Poi c'ero io Dall'altra parte Che tipo Mi stavo Aprendo Così Ed è strano Capito Risulta Estremamente cringe Perché cambia Dipende dal punto di vista In cui guardi le cose Cioè dipende Da dove ti siedi A guardarle Capito Anche per chi ha direzionato Quel contenuto lì Era per una certa Un certo pubblico Quello l'ho fatto In realtà Per tutti Cioè Quello è un contenuto Semplicemente tipo Era proprio Sul bullismo Capito Sul Su Quante alcune cose Che vengono fatte Con leggerezza In realtà abbiano Un impatto grandissimo Soltanto che L'ho interpretato Con delle scenette In modo ironico E leggero Perché il messaggio Potesse arrivare Capito Ad un pubblico Più vasto E il pubblico vasto Significa persone Che Che anche Non erano interessate Volevano Trollare Ad oggi dico Grazie per l'engagement Invece ai tempi Fu una botta No in realtà Lì era ancora tranquillo E quando poi Ho smesso Sì perché È così È vero È la La narrazione Di come Le persone Di cosa le persone Pensano di te Nel pubblico Ma anche su un social X Per una persona X Quando smette di postare Ma che fine ha fatto Perché quella è la nuova piazza Non lo vedo più Non vedo più Che cosa fa Cosa sta facendo Per me dipende Dal modo nel quale ti poni Ad esempio Io ho mantenuto Inalterato Una Una maniera Di intendere Le piazze virtuali Che è un po' Degli anni 90 2000 Su internet Non devi essere tu Non ti devi raccontare Non devono sapere Chi sei Trovati un nickname Se proprio Vuoi esprimerti Devi essere Topo Gigio Adesso invece L'identificazione Con la maschera sociale È fortissima Quindi Il racconto Di te È agevolato Proprio si spinge Perché tu lo faccia Sì Noi fortunatamente Qui recitiamo Sì Noi fortunatamente Abbiamo Se vuoi Una formula imprenditoriale Quindi si può avere Quel distacco Di dire Vabbè Comunque è una roba Che mi fa engagement No Cinicamente anche Però Chi non è attrezzato A farlo E penso che La maggior parte Delle persone Approcci anche I social Alla maniera Di un content creator Pur non essendolo Va incontro A Una A Un A Ad esporre una fragilità A quale non si è attrezzati Come non si è attrezzati Nella vita Di tutti i giorni I giovani Il tema dei giovi Giovanissimi Con i social Cioè che non Tornando Era Tornando A Crollano i numeri E crolla pure L'autostima Diciamo Come fai a spiegare A un ragazzino A una ragazzina Giovane Che Se diventa virale Su tiktok E poi Dopo un mese Non se la caga Più nessuno Non è che non vale Niente Forse non devi proprio mostrarla Non deve proprio esporsi Finché non sei conscio Eh Questa è una Bellissima domanda Non ho una risposta Definita Però mi viene da Pensare Che alla stessa Potresti approcciarti Alla Alla stessa maniera Per spiegarle Che cos'è un brutto voto Cioè Che è un fallimento Non un litigio Con il compagno Passa Che Se non le invitano Alla festa XY E che oggi È come se fosse diventato Comunque impossibile O molto molto difficile Tollerare La frustrazione Cioè Tollerare Quei momenti In cui C'è una sensazione Appunto Di difficoltà Di disagio Si tende a tappare Si tende a squalificare Si tende Anche da parte dei genitori Dicono A far finta di niente Ad andare avanti A disconoscere Quel momento Anche di difficoltà In cui invece Magari sarebbe importante Imparare a starci Quindi Come spiegarlo Non lo so Sicuramente però Cercando dall'altra parte Per non farli sentire esclusi Perché poi c'è il grande tema A che tado al cellulare Se non Non permetto loro Di fare determinate cose Allora si sentono esclusi E quindi c'è Comunque Una controindicazione Dall'altra parte Li salvi da una parte Li salvi da una parte Ma li esponi A isolamento Magari Dall'altra Non dandogli L'accesso ai social Però Se accanto a questo Riesci a A dare loro Tutta una stimolazione In cui loro Possano investire Effettivamente Su qualcosa Che è altro E soprattutto Su qualcosa Che è reale Perché ecco Io non sono Non penso sinceramente Che i social Siano la realtà I social Sono la parte Di realtà Che noi Di cui noi Siamo più consapevoli E di cui noi Siamo appunto Più in controllo E che vogliamo Mostrare agli altri Però Non è la realtà No no E quindi Non lo so Mi viene in mente Anche quando adesso Si chiudono le relazioni No Fino a qualche anno fa Quando Quando si chiudevano le relazioni Era un po' diverso Adesso con i social È tremendo Perché Tu vai a controllare O vai a postare Aggiorni lo stato di Facebook Single Esatto Facebook Non lo so No adesso magari Facebook infatti no Però Lo sta Gli accessi su Whatsapp Piuttosto che No Il numero di Chi lo segue Non lo segue più E diventa un incubo Perché poi effettivamente Tu Scegli di mostrare Magari Una Non sofferenza Quando in realtà Quella sofferenza C'è Ma solo per Dare una comunicazione Dare un messaggio Che ti sta guardando Quindi diventa Veramente molto Molto complesso E Secondo me Dobbiamo proprio cercare Di spostare Di allargare Non di spostare Ma di allargare Un po' il focus Cioè di fare in modo Che i ragazzi A quell'età Cerchino Di investire Tempo Energie Risorse Su qualcosa Che costruiscono Smettendo di leggere La realtà In termini Valgo Non valgo Quindi se faccio questo Sono bravo Se non faccio questo Non sono nessuno Quindi sparisco Dalla piazza C'è un modo per evitare Di dare importanza Alla validazione Degli altri Sulle piattaforme social Cioè c'è una distanza A quale ci si può porre Rispetto al prossimo Non saprei Io penso Penso che questa distanza Tu la possa creare Riempiendo Quello che hai Fuori Quindi Cercando di Magari Anche a livello più strumentale Operativo Limitando l'accesso Come dicevi tu Prima da mezzogiorno Alle tre Quindi limitando Un po' l'accesso E poi dall'altra parte Però Cercando di dare A tuo figlio A tua figlia Che magari è adolescente Una serie di stimolazioni Un pochettino più Consistenti Che però Non diventino Quello che mi sembrava Stesse dicendo Greta all'inizio No? Quindi Devo studiare Devo andare bene a scuola Devo fare otto ore Di allenamento Al giorno di nuoto Poi devo fare Cioè come dire Perché altrimenti diventa No? Che se smetto O rallento Di fare tutto questo Anche qui Io non me lo posso permettere Perché Perché non valgo niente Perché deludo la mia famiglia Perché io sono questo Perché io sono questo Io sono quello che faccio No? E quindi Mi merito poi Magari l'amore L'affetto Delle persone attorno a me Nel momento in cui Io dimostro Quello che Che sono Ma lo faccio In una maniera Più concreta Sulla base Sulla base dei risultati Più concreta Posso dire Questa cosa Cristina Apri Per me Veramente Un mondo Di cose da dire Perché Sì è vero Io merito più amore E così Tutti quelli intorno a me Stanno su Instagram E quello è famoso Escono tutti Con quello Perché ho due numeri in più E quando escono Mettono una storia E poi lo taggano E quelli vanno alla festa Perché sono più popolari Cioè guarda che è come se fosse Un grande canto Cioè un grande canto Delle sirene Capito Tutti sotto questo Incantesimo Di Ok sì Però comunque Cioè E io mi parlo Soprattutto anche Magari alle persone Un po' più piccole Immaginati avere 13 anni 15 16 Oggi Sta dando Girone dell'inferno Cioè tu vai a scuola Che già È un girone dell'inferno Se te la vivi In un determinato modo In più Devi anche Sostenere Che Cioè Cioè la tipa figa Della Quinta C Che va in live ogni sera Si fa i capelli È bellissima Sua casa è bella Va così Fa i numeri Cioè tutto Cioè sono dinamiche Che in realtà Sono proprio concrete Reali Sono proprio tipo Non È difficile Dire Io Sono più figo Di tutto questo Perché c'è il rischio Che poi sparisci Cioè non esisti E la questione è che Non è che ci stiamo Avvicinando Verso una realtà Cioè Da una parte Io immagino Che le prossime generazioni Non Saranno più presenti Sui social Attivamente Ma che sarà L'intelligenza artificiale A riprodurre Il tipo di contenuto Che tu desideri fare No? Cioè Io voglio fare Un podcast Lo scrivo E lo faccio fare L'intelligenza artificiale Cioè diventa una cosa Che diventa tipo Separiamo queste due simulazioni Sì Questa simulazione Si stacca da quella In modo ufficiale E io posso Permettermi di vivere Di qua Però adesso È come se fosse Proprio Siamo a cavallo Di questo mondo Che è difficilissimo Da saper gestire Poi Noi abbiamo visto Anche il passaggio Dal mondo Prima dei social Siamo l'ultima generazione A dopo dei social Dopo i social Hai la percezione Di cosa significa Sì Avere Cioè Io non ho coraggio Magari di andare A parlare con una persona Perché Sono dieci anni Che vado a scuola E sono abituato Che posso mandargli Un messaggio Come si chiama Su Instagram Sì Perché mai Dovrei Chi me lo insegna Adesso Come si fa A dire Ah mi piace Quello seduto lì Vado lì E gli so dire qualcosa Non posso Perché vado lì E lui poi Va dagli amici E gli dici Cioè mi è successo Che è venuta questa E cioè tipo Mi fa Capito Invece si parte Con dei like Tattici È capito È sociale la cosa Non puoi tipo Escluderti E dire Ah ok Adesso io I'm cool now Uso un flip phone Parlo dal vivo Alle persone La generazione più figa Cioè quelli che Adesso sono considerati Più figi Sono quelli che Invece si distaccano E fanno tipo Oddio io non farai mai Un video su In cui mi faccio vedere Che parlo così Ok hai ragione Hai ragione Cioè va bene Hai ragione Cioè immagina Di essere cresciuto Che c'era già questa cosa Super strano No fai tipo Oddio non lo voglio fare È stranissimo Perché mi devo mettere Tu eri quella diversa Stavo pensando A quello che dicevi Però quello che mi chiedo Nel momento in cui tu Hai a disposizione Oltre al cellulare Oltre al computer Oltre a tutte quelle dinamiche Che non le hai a disposizione Ma purtroppo In cui vieni Completamente immerso Che descrivevi benissimo tu Che cosa c'è Fuori Da tutto questo Cioè Esiste una libreria A casa Esistono Dei genitori Che ti Magari non ti accompagnano Direttamente Però che ti danno La possibilità Di avere accesso A uno spettacolo teatrale Piuttosto che un cinema O lo sport Al di là del risultato Perché poi Non deve diventare Anche questo Il luogo dove portare A casa A profitto Ma Hai accesso A sport Con cui poi Che ti possono dare La possibilità Di avere Compagni Amici Quindi anche Sostenere La piacevolezza Di un investimento In quel caso Appunto Legato Al A raggiungimento Al fisico Piuttosto che appunto Allo sport di squadra E quant'altro È tutto Il contorno È un privilegio È un privilegio Secondo me viene a mancare Oggi Non ce l'hanno tutti Non ci sono alternative Pieno di iPad kids Esatto Perché io Quello che spero Forse in maniera Anche un po' utopica Non ho ancora figli Ma se un giorno Dovessi averli Non posso pensare Di togliere loro Il cellulare Ok Proprio per le conseguenze Negative che questo Poi Provocherà Chiaramente Con una limitazione E quant'altro Però gli vorrò dare La possibilità Di scegliere Ad un certo punto Cioè Vorrò mettere loro A disposizione Una serie di contesti Libri Piuttosto che Teatro Piuttosto che cinema Dove loro Ad un certo punto Potranno scegliere Dove direzionarsi Questo è quello che Abbiamo a disposizione Noi da dare Poi forse Alle altre Generazioni Quindi la scelta Arriva dal sapere Che ce n'è una Anche soltanto Esatto Essere esposti A più realtà A più maniere Di intendere Il prossimo Il sociale Se stessi Perché altrimenti C'è la dominazione Di una narrazione Dove c'è solo quello Il mondo è solo questo qui Ci vediamo tutti solo qui Certo Possiamo stare assieme Solo in questo modo Cioè partendo anche Prima ancora Delle attività Ma anche solo essere Ascoltati Cioè tu cerchi anche Martino Lo cerchi lì Perché sei disperato Perché magari Veramente Io avevo un'amica Di 83 anni Che mi insegnava A fare la torta Sub e mi parlava Della Sardegna Dove l'hai trovata In Sardegna Cioè tu sei andata In Sardegna E hai trovato In Sardegna Alle 83 anni Sono adolescenti Sì andavano tutti quanti Al mare Io stavo a casa mia Dalla mia vicina Che La Stida La Stida Intelligente La Stida Stava con la signora Di 83 anni Perché mi sentivo Che c'avevo da conversare Che qualcuno mi ascoltava Mi raccontava le cose Era interessante Una persona vera Che bello Poi quando però Magari ti trovi In una scuola In cui magari Ci sono persone Che hanno diverse possibilità Dalle tue Diverse attività Diverse situazioni Cioè le circostanze In cui cresci Martina anche tu Cioè sei cresciuto Però con un fratello Magari Anche per dirti Anche questo Non è scontato Perché anche io Per dirti Quante volte magari Avrei voluto avere Una sorella Qualcuno con cui In modo sicuro Aprirmi su determinate cose Perché magari poi Ci sono tutte delle dinarie Non ti senti al sicuro Con gli altri problemi Affidarti Così Anche quello è il motivo Per il quale poi Magari per dirti Una persona come me Al tempo che fu Si trova A cercare Una sorella lì Capito? Ed è per questo Che i social Diventano anche poi Un mezzo brillante E qualcosa Che in realtà Non va solo Tra virgolette Demonizzato Ma che può anche Essere saputo usare E cioè io pure Che mi sento di dire Tipo A Questo pubblico Che abbiamo Possibilità di raggiungere È che in realtà Devi partire Da dentro di te A capire Cosa Ti serve Cosa Ti piace Che Cosa ti fa stare bene No E anche avere Un po' Il Un po' Cioè Se tu te lo ammetti A te stesso Per primo Ah e poi Gli strumenti Per dirlo fuori Puoi per favore Abbassare la voce Che mi dai Cioè No veramente Mi triggio Non riesco a mangiare La tua voce No dico Ah pensavo stessi parlando Da un momento All'altro Esatto Esprimere proprio Le tue necessità Capito? Cosa necessiti Che adesso Si ha sempre paura Non mi posso esprimere Non posso dire niente Non voglio dar fastidio Non lo dico sui social Non lo dico qui P.O.V Il tuo amico fa Dillo al tuo amico Cioè capito? Si Dici controlla un po' di più anche E non farti controllare Si cosa ti piace Capito? Sta cosa che uno commenta Non commentate molto spesso Perché vi va di commentare quella cosa Ma perché sapete Che è un commento Che potrebbe prendere mi piace Si quello è assurdo Si E quindi vuoi sentirti Anche indirettamente In modo passivo Tra virgolette Parte Di uno spotlight Ma quello che dicevi rispetto al C'è qualcuno che mi ascolta E c'è qualcuno che magari mi vede Questo poi di base Per tornare anche a rispondere Alla tua domanda Martini Del Che cosa possiamo fare Per mantenere Quella distanza sociale No? È Cercare Creare dei rapporti In cui facciamo sentire Gli altri visti Facciamo sentire gli altri Riconosciuti Chiaramente In modo reciproco E In un modo Che possa poi Come dire Evitare Di relazionarci Sulla base Di quello che noi pensiamo Che l'altro sia O quello che noi pensiamo Che l'altro Di cui l'altro Possa avere bisogno Cioè questo diventa Di fondamentale importanza Perché spesso noi Ci comportiamo Ci relazioniamo Con gli altri In base all'idea Che noi abbiamo di loro Che è anche normale Perché è chiaro Che abbiamo una rappresentazione No? Dell'altro Di noi stessi Di come funzionano Le relazioni Questi in psicologia Si chiamano Modelli operativi interni Sono una sorta di schemi Dei software Che ci permettono Di funzionare Nel mondo interpersonale Uno nessuno centomila Però Dall'altra parte Dovremmo sviluppare Sempre di più E su questo Secondo me La genitorialità È un punto cardine Per andare a lavorare In ottica preventiva Su tutto quello Di cui stiamo parlando Sono genitori Sono genitori a educare i figli Quindi Eh sì Però in un modo Per cui io dovrei cercare Di vedere mio figlio Ponendomi il più possibile In una maniera Che è interessata Cioè cercare di guardarlo Per quello che è Non per quello che io Vorrei che fosse O per quello che io penso Sia sulla base Magari appunto Di mie esperienze Di mie categorie Ripeto Partiamo sempre Da una rappresentazione Però è quanto riusciamo A fare in modo Che ci sia Una sorta di feedback Nella realtà esterna Che entra nella nostra rappresentazione Questo per esempio È una cosa che mi riportano Tutti i pazienti in terapia Cioè L'impossibilità Di essere visti E di essere riconosciuti Ma per quello che sono Cioè Per dire Gioco a calcio Mio padre mi regala La racchetta da tennis No Che diventa invece Un padre cretino Diciamo Eh ma guardate Te ne potrei stare Non ho capito bene Come funziona lo sport Forse Lo fanno perché A loro volta Cioè Si sono trovati Con dei genitori Che venivano da Un'era Diversa In cui c'erano Necessità diverse La vita era dura Cioè C'erano state due guerre Cioè Nel senso Anche Io sono cresciuta Da una famiglia Che ha una mentalità Non è diversa Cioè È comunque Sempre Cioè Le mie sono state Due figli Allucinanti Comunque Nella libertà Che mi hanno dato Però Comunque Dipende Cioè Penso che Per sbloccare Un po' Questa cosa Poi va bene Parliamo in terapia Devi anche Un po' Lasciare andare L'idea Di quanto Sia importante Quello che Pensano di te I tuoi genitori Sì Vuoi renderli fieri E felici Ok Però devi anche Tipo Tenere in considerazione Che hanno fatto Quello che Potevano In base a come Sono stati Cresciuti Anche Cioè I traumi Ereditari Che ci sono Anche Cioè Te la prendi Perché tua madre Fa così Ma se tu Dici Ok ma mia mamma Cioè Fa così Perché chissà Magari Lei com'è stata Cresciuta Io faccio Sempre questo Esempio Che è anche Un po' Forte No Se c'è Un Magari Una persona Che ha Una schizofrenia Allucinazioni E quant'altro Magari Allucinazioni Auditive E uccide Un'altra persona Ok Quella persona Può essere Dichiarata Incapace Di intendere Di volere Perché magari Appunto Lo ha fatto Perché In quello Specifico Momento Sentiva Delle voci Che gli dicevano Di farlo L'altro è morto Però Non si tratta Di colpevolizzare Si tratta Di comprendere E comunque Però di prendersi cura Di quelle che sono state Le conseguenze Cioè Se io riconosco Che i miei genitori Lo riconosco Che hanno avuto In primis Una marea No Di difficoltà Non è per colpevolizzarli Ma Per comprendere Che cosa è successo Però Comunque A me Le loro difficoltà Hanno creato Delle Delle difficoltà Delle criticità Ok Quindi Non è il gioco Dell'inquisizione È forse il gioco Della consapevolezza Però In primis Voglio dire Nel momento in cui Uno va in terapia E mette sul piatto Tutto quello che Sente Che ha provato Ripeto Non è per demonizzare Mamma e papà Come possiamo pensare Noi Gli psicologi Io credo Io credo di avere Delle immaginette A casa Dei genitori Dei miei pazienti Tipo bamboline voodoo Una cosa del genere Però Non è per demonizzarli Però Detto questo Come dire Il nostro comportamento Come magari sarà Il mio in futuro Con dei figli Avrà delle conseguenze C'è un pedagogista Polgar Che Affermava Che Qualsiasi Bambino Che avesse Cioè che Ricevesse Un tipo di istruzione In un determinato campo Dalla giovane età In modo Costante E E preciso Potesse poi Diventare Eccellere In quella attività E lui Che aveva tre figlie Femmine Gli insegnò A giocare A scacchi Fin Insomma Dalla tenera età E E una Di queste È considerata Una delle più grandi Scacchiste Al mondo E tutte e tre Sono Tre grandissimi Giocatrici Scacchi Chissà se lo volevano Però Chissà se lo volevano Poverino Bam bam Sì mi viene in mente Tipo anche Mozart Sai i bambini prodigio Che in realtà Sono Vittime di vessazioni Da parte dei genitori Che cercano di Vivere Per interposta Persona Del loro ambizio Come Anna Montana E poi si mettono Su una palla Una breaking ball E si liberano Allora quali sono Le circostanze Perfette Da me Le scacchiste Guarda ti rispondo In maniera teorica Secondo il mio modello Cercare di far sentire Al sicuro Le persone che ci stanno Accanto Quindi che sia Il nostro figlio Il nostro fidanzato Le nostre Amiche Cercare di creare Delle condizioni Perché Possano sentirsi Al sicuro È un po' Forse Quello che poi permette Anche miglioramenti In terapia Quindi creare Una relazione Terapeutica In cui Il paziente Possa sentirsi Al sicuro Che significa Che possa sentire Che quelle credenze Patogene Di cui parlavo All'inizio Non creino Non siano più Così ostacolanti Rispetto al raggiungimento Di obiettivi Quindi Possono essere Disconfermate Di fatto Non è vero Perché è un po' Quello che ci succede Nella nostra Infanzia E che ci porta A strutturare il mondo In quel determinato modo Poi di base È quello che noi Ci portiamo dietro E che ci ostacola E quindi Quello che vorremmo fare In realtà È creare delle condizioni In cui Interpersonali Relazionali In cui Sentiamo Che quelle credenze Patogene Che sono alimentate Alimentano Dei sensi di colpa Interpersonali In realtà Non sono vere E riconoscersi Cioè riconoscere Anche ciò che provi Le tue emozioni Riconoscersi Che Riconoscersi Quello che provo È tutto vero È reale Cioè Delle volte Hai bisogno di qualcuno Che te lo dica Guarda che tutto Quello che stai provando È reale Perché se no Pensi sia frutto Così Di un trip No Che non te lo puoi permettere Il senso di colpa Ma ti pare Magari ho visto io male la cosa Non posso stare così Perché Guarda io mi ricordo Che una volta Stavo preparando un provino Con un mio collega attore E c'è stato un momento Era una scena Stiamo parlando Tipo Una scena Parecchio intensa Comunque C'era un momento In cui io dovevo Proprio un attimo Crollare No Pesantemente E era parecchio Che ci stavo lavorando Quindi sono passate Tipo Quattro ore Cinque ore Così Che non è niente Stavo lavorando da tanto E a un certo punto Lui mi guarda E mi fa Greta Tu adesso In questo momento Puoi essere Tutto quello Che non ti sei mai potuta Permettere di essere Tutto quello Che tu hai sempre provato E che non hai mai potuto Davvero tirar fuori Non hai mai avuto Questo è il posto È tutto ok Lo puoi fare Cioè qui ti puoi aprire Prendi per mano La tua bambina interiore Che è un concetto Veramente molto Concreto e forte Quello di visualizzare Il proprio bambino interiore Che non è stato riconosciuto Che non ha avuto Un posto sicuro Che non ha avuto Qualcuno che l'ascoltasse Che lo vedesse Tutte le cose Che ti sei tenuto Se prenderlo E dirgli Adesso ci penso io A te Lo prendi per mano E poi mi fa E gli dai una carezza Finita Cioè C'ha proprio Corollato tutto Quanto Tutto Venuto giù tutto Adesso ancora È una tecnica Importante Anche Nella recitazione Per Connetterti Poi A A quella cosa Che è Il tuo mondo interiore E riconoscerlo E dargli una carezza Sei abituati sempre A prenderci a schiaffi Sempre Sei abbastanza bravo Sei abbastanza forte Sì ma non è abbastanza figo È sempre Tipo È una società Molto sempre In conflitto Tutte le cose Sono sempre Tutte molto Pressate Sotto pressione Da se stessi Da se stessi Infatti io prima Quando dicevo Avevo bisogno Di staccarmi un attimo Era perché Ok capisco Che la ritmica È che io devo Essere presente Ogni settimana Devo pubblicare Un video Due Tre Tre Tiktok Quattro video Nove cose Ci sono Ci sono Ciao ragazzi Però Posso anche Considerare Che posso uscirne Non succede niente Poi capisci Che non muori Non muori Anzi Prendi vita Riprendi vita Tu sei vivo Il tuo cuore batte Non Non importa Il fatto Che tu Non abbia creato Un contenuto Come se fallisci Un esame Appunto Molti pensano Alla morte Ecco questo Si collega All'ansia All'ansia Che se ne parla Tantissimo Non so se Queste cose Ci sono sempre state Secondo te Cosa nello specifico L'ansia E tutte queste sfumature Di disturbi mentali E non essendo Stati riconosciuti Non avevano Semplicemente un nome O sono aumentati E quindi sono riconosciuti Ma guarda Sicuramente Se parliamo di ansia Forse sì Ci sono Ci sono sempre Stati Anche perché L'ansia Clinicamente È Se vuoi Uno degli elementi Principali Anche Della 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 Conoscenza Sulla Psicopatologia Penso anche Che almeno Sicuramente Da dopo il Covid Anzi Durante Già Il lockdown L'ansia Sia stato Uno degli elementi Preponderanti Noi abbiamo avuto La fortuna Di fare Se non vado errata Il primo Comunque Tra i primi Studi Durante Il lockdown Che sono stati Pubblicati E che andavano Un po' A indagare Quello che era Lo stato Mentale Sì Lo stato emotivo Delle persone Durante il lockdown E abbiamo visto Che effettivamente C'è stato In quel periodo Un incremento Significativo Di ansia Stress E depressione Rispetto a Quello che poteva Esserci Quando hanno Tarato Gli strumenti Che noi abbiamo Fatto Quello che È interessante È che poi Quest'ansia È andata Scemando Dopo L'interruzione Del lockdown Pensavo fosse rimasta Perché Ho aumentata Nella Di più L'opposto Vissuto Stavo vivendo Il mio periodo Miglioramento Eri nel cilio In lockdown Quando Mi hai detto I'm pretty Living The time Of my life E poi Finito il lockdown Fuori C'è la tempesta Scusa La mia parte Traumatica Volevo aggiungere Una roba Del tipo Sì lo so Che sono morta Non so Non volevo Ma sei stata Impossessata A un certo punto Hai parlato inglese Non so Non so cosa hai detto Cosa ho fatto Non riguardo Beh è chiaro Che qualcuno Comunque L'ha vissuto Anche come Una maniera Per Come dire Darsi del tempo Per se stesso Ha cambiato la società Questa cosa Perché quante persone Impossibilitate Dal lavoro Da mille impegni Da mille cose Non avevano mai avuto Possibilità Tipo Di dire Guardami lì Che sono nello specchio Sono un essere umano Interessante Tipo capito Una bella rottura Dalla routine E poi tutti Parentesi Si poteva fare Si può fare anche Possiamo organizzarci Anche senza una pandemia Se volete Per l'aspetto drammatico Della mia vita Dici chiudersi in casa Due mesi No in realtà È stato È stato Accorda È stato anche Parecchio inquietante Cioè Il telegiornale Perché poi uno Si ricorda Semplicemente Tipo Renegade Però Ho capito In realtà È stata intensa Basta Un certo punto Era tipo Vi prego Io sto morendo Però ha degli strasci Cioè Il covid Ci ha segnati tutti Secondo me Ha stressato E segnato Di più Alcune fasce Specifiche Della popolazione Credo che Cominciare a fare Le scuole medie O cominciare a fare L'università In quel periodo Abbia tolto La possibilità Di una socialità Che in quel momento È fondante Rispetto invece Magari Non che non lo sia In altri momenti Della vita Però Magari a 30 anni Tu utilizzi La socialità Che ti sei costruita Prima Quindi Le call Che si facevano Era perché La socialità Era già stata costruita Se Blocchi Nella fase evolutiva Le persone Che è la fase evolutiva In cui quella socialità Deve essere creata Chiaramente È più difficile Quindi Secondo me Alcune Alcuni gruppi Alcune fasce di età Più di alti Dobbiamo tenerli d'occhio Assolutamente Ci sarà una fascia generazionale Che sarà disfunzionale Magari Quelli che hanno fatto Le medie nel 2020 Ma anche chi ha fatto L'università Perché poi io Lavorando all'università Vedo oggi Chi ha fatto Chi ha iniziato Chi ha la magistrale Che ha fatto La triennale Insomma Durante il covid Quando ancora Magari gli esami Erano online È Vissuta male Abbastanza Comunque un po' tutti Ha colpito un pochino tutti In realtà Cioè Sì sì Chissà È veramente distopico Quello che è successo Era distopico Quando Cioè Quando Dai Quando hanno dato l'annuncio Sembrava veramente E se stesse venendo Ma io parto dal presupposto Che è sempre Tutto molto distopico Tutto Vero Infatti io Non c'è nulla di normale Non bisognerebbe fare L'abitudine a niente Tutto questo non esiste È tutto straordinario È tutto fuori scala È tutto Sì sì Normalità Non l'ho mai vista Di base No Non è normale nulla Di quello che stiamo vivendo Però Lì ahimè Vedere Effettivamente Molti sono cresciuti Da soli Chiusi in casa In anni dove Non ci stai Praticamente mai in casa Io alle medie Almeno ero sempre in strada Si è trovato costretto A convivere In dei rapporti disfunzionali Anche Situazioni di violenza domestica Che magari stavano Per interrompersi Lì Si è ritornati Si è rifiombati C'è stato un aumento Gli articoli scientifici Te lo dicono C'è stato un aumento Di violenza domestica Durante il periodo Del covid Sì Eh beh Sì E poi anche Secondo me Quei momenti Della vita Insomma L'avete capito Che sono molto interessata Alla genitorialità In un modo o nell'altro Quindi Ci sono poi Dei momenti Nella vita In cui Non avere Potuto Vivere Quello specifico Momento Con Per esempio Col proprio compagno No? Il momento del parto Piuttosto che Il momento della morte Di una persona cara Che non potevi andare A salutare A vedere Per l'ultima volta Insomma Lasciano Non so se Dei buchi Però sicuramente C'è più difficoltà A interpretare Quello che È successo Si può tornare Indietro Da questo punto A parlare Proprio Della perdita Della libertà Cioè Della libertà Al giorno d'oggi Di che cosa Significa anche Sentirsi liberi Di quanto Ci si sente Sempre Lì Ovviamente Costretti Da una dinamica Molto Più grande Però comunque Nel mondo C'è stata la peste Ci sono state Infinite pandemie E comunque Non era mai successo Che si chiudesse Tutta la popolazione In casa Per mesi È terribilmente Distopico Comunque Siamo sempre sotto Le telecamere Anche in strada Ogni cosa Un gps Ogni cosa È tracciata Ma la vera libertà È qui dentro Esatto E se però Non te ne ricordi Perché sei Perché comunque Sei anche Legata a un corpo Fisico Capito Cioè il tuo corpo Fisico È legato A degli orari A Il cibo Cioè capisci Cioè comunque Anche quella parte E che te la devi prendere In un certo senso Io penso Cosa devo fare Cosa ti aiuta A sentirti Ad esempio Semplificare un attimo E dire Io cosa voglio Voglio i bicipiti grossi Ok Allora devo andare In palestra Quando Non al pomeriggio Perché devo lavorare Quindi ci vado alla mattina E ti ritagli La libertà Poi una volta che hai fatto Quello che vuoi Liberamente Almeno a me Possono rubare Tutto il tempo Che vogliono I problemi Importante che non mi venga Tolto Anche le telecamere Se io posso Lo stesso Arrivare a avere I bicipiti grossi Le telecamere Possono rubarmi Tutti i dati privati Che vogliono Tanto io Ho quel tipo Di interesse Tutto il resto Non mi interessa I più grossi I bicipiti più grossi Idealmente Posso farti una provocazione E chiederti Ma lo scegli tu Sei libero di scegliere Se volere I bicipiti grossi Sì Perché è una cosa Che non mi chiede nessuno Anzi In famiglia Anzi Quasi più un Ma che cazzo Stai facendo Sì non ce ne sta niente Esatto Ma un po' Vedessi No ma Al momento Non sono così grossi Perché non sono i più grossi Non sono così grossi Come vorrei Quindi adesso Li devo nascondere un po' No scherzi A parte Te lo dici Sì Si dice C'è pure libertà in quello Ma per Io Magari in maniera Non serve Cosa Che mi nasconde i bicipiti No ti eri messo così Per coprirmi i bicipiti Lo so No nel senso Nel senso che Io forse Sono più portata a pensare Che proprio per tutti i condizionamenti Anche e soprattutto Quelli di cui non siamo consapevoli In realtà Non so se è la libertà In senso ampio Che possiamo cercare A tutti i costi Piuttosto che Cercare di conoscere Quali sono i condizionamenti Che ci muovono Quindi andare in privativo Cioè andare a A valutare il contrario Perché nel momento In cui tu conosci Dove sei bloccato E perché Quali sono I blocchi Per quanto Secondo me Si possano conoscere Possano poi permettere Di autodeterminarti Allora Forse è lì Che sei Un po' più libero Anche perché Penso che siamo Molto meno liberi Di quello Di quello che pensiamo Ti puoi anche mettere in dubbio Il free will Cioè la Come si chiama in italiano? Il libero arbitrio Il libero arbitrio Che fa ridere Che alcune persone La maggior parte Tutti forse Sembriamo Programmati Che le persone Le masse Sono prevedibili Fa paura Le priorità Proprio sono Programmate Cioè il libero arbitrio Secondo me Cioè Shitstorm And cancel culture Cioè Le shitstorm Che non traduciamo Tempeste di cacca Grazie Copro tempeste Grazie Copro tempeste Di cacca Copro e cacca E Copro e cacca Sì Sì Coprofago Ah giusto Si mangia la cacca Necrofilo invece E chi Perché li confondo sempre Non so perché Vabbè Insomma Vabbè Dai La parte razionale D'età Faccio quel riposo No grazie Perché saremo per tu Cioè Non stai andando da cacca Non stai dicendo No che È per questo Che poi si crea Queste nuove forme Che secondo me Come hai detto Che si chiama Il libro Che hai detto Che viene aggiornato DSM Ecco Il DSM Secondo me Presto verrà Riaggiornato Perché Tutto questo Anche Crea Un nuovo tipo Secondo me Di Disturbo Se vogliamo usare la parola Disturbo Non mi viene Tutto questo cosa Un sinonimo La realtà Splittata Su Piattaforma X Che dipende Da algoritmo Y Che porta Tot soldi A Meta E quindi Richiede Un determinato tipo Di utilizzo Affinché E poi ci finisci dentro E poi però Ci monetizzo anch'io Quindi lo faccio Però Qual è la Merce di scambio La merce di scambio Cos'è La mia sanità mentale La mia immagine La mia voce Le identità Iniziano ad essere Rubate C'è una ragazza Che adesso È su tutti i dispositivi In Cina Come Mezzo di informazione Su determinate Piattaforme cinese Gli è stata rubata L'identità E adesso Lei sta tipo Cercando di impugnare Legalmente Come meglio si può Perché insomma Cosa ha fatto un deep fake Di questa Utilizzano proprio La sua immagine La sua voce Per delle piattaforme Che tra l'altro Guadagnano tantissimi soldi Dalla distribuzione Di informazioni Su determinati tipi Di piattaforme E le fanno dire a lei Le cose che vogliono E le fanno dire a lei Con l'intelligenza artificiale E lei ha perso La sua identità Che è esattamente La puntata Di Black Mirror Però è già successo E cioè Le cose vanno In modo esponenziale Adesso Cioè non c'è più Una crescita Tipo Ah ok Adesso si usa più i social Adesso è tipo Babam È esponenziale Tra pochi mesi Non si sa cosa sta per succedere Cioè adesso Apple ha fatto un nuovo aggiornamento Io dico Siri mi trovi la maglietta Con la foto Che ho la maglietta verde Mi trovi il fiocchetto bianco Mi trovi per favore L'ultima foto Con il fiocchetto bianco Siri te lo trova Capito Cioè Non so come dire Mi sono dimenticata Perché ho iniziato Questa No stavi parlando Di libertà Shitstorm Shitstorm E di Cancel Culture Che Non c'è un controllo Non c'è più Un cervello singolo Perché c'è necessità Di avere un cervello In comune Per monetizzare Guadagnare Fare le cose Che funzionano Quello funziona Lo faccio anch'io Quello commenta così Lo faccio anch'io È stato detto Dal Wissal Che i bici di piti Devono essere grossi Soltanto bici di piti grossi Cioè capito È una questione Capito Perché se no poi Sei solo Tempo fa Tu li vuoi piccoli Ma tu sei solo In questa cosa Sì Sei solo Ora vanno grossi Adesso ora vanno grossi Tu ce l'hai il coraggio E le circostanze E l'appoggio Nella tua realtà Guarda che è un contesto Sì distopico Meglio invisibili Meglio invisibili Non so Io credo che si cercherà Sempre la strada Di minor resistenza E la pigrizza Ci salverà Da queste robe Pigrizza Ma sì Per forza Troppo a fatica Cioè mi viene Mi viene Ma chi me lo fa fare Ciao ragazzi Noi andiamo al lago Ciao Luiz Grazie Dottoressa Vederci No beh tu non sei Non sei mai stata pigra No io sono pronta a fare questo Pigra tu Dentro Riusciresti a non fare nulla Cioè non riesco a fermarmi dentro Capito Cioè sono in costante Cioè processo costantemente Come ogni essere umano Manda questa macchina velocissima Overanalizzi Sì Ho poi cercato di capire Ma tu non ti dai qualcosa Tipo di Non hai delle attività Come dicevi che avevi Fisicamente fuori Esatto Che ti aiutano poi A non dover pensare a nulla Che per me sono fondamentali Guarda quando passo le giornate In accademia Di recitazione Proprio il telefono Lo lascio fuori Non mi viene neanche in mente Che esista E mi Perdo completamente Cioè mi perdo In realtà sono estremamente lucida E concentrata Però sono In pace Con tutto Invece i social Sembra Ti facciano l'effetto contrario Adesso io li sto sfruttando Sto cercando di capire Un modo Una dinamica Che mi può star bene Cioè Che non mi necessita Un estremo Tipo Cioè non l'ho mai affrontati Con un programma Tu l'hai mai affrontati Con un programma? Sì Dall'inizio Cioè io quando ho iniziato A fare i video Avevo In mente Un piano Ok E tuttora ho un piano Non è mai stato Cioè poi all'interno del piano Ti muovi liberamente Però ci deve essere Una sorta di Di approccio Eh dici tipo Dei paletti Non parlo di certe cose Parlo di altre cose Cioè capisci Grazie Così Dei limiti Datti dei limiti Adesso guarda Per dirti non mi viene spontaneo Proprio parlare di determinate cose Prima che non avevo comunque I mezzi O le Per me era normale farlo Allora l'ho fatto Poi quando ho vissuto le conseguenze Mi sono guardata intorno E ho detto Ragazzi Sta per succedere anche per tantissime persone Avevo predetto tantissime cose Che poi sono successe Voglio fare un paragone su di te Sei come davvero una Una child actor Perché sei stata famosa In fretta da giovane No? E questo ti ha Ti ha dato Quella Quella popolarità Incontrollabile E poi hai tirato indietro Come dicevamo prima Con Anna Montana Non ti senti un po' Se cosa cambia Un piccolo dettaglio Che però è un mondo Che Tu poi Sei conosciuto per La tua personalità Le tue idee Non perché recitavi Se dici Quello che pensi E racconti Come lo fai Come ti esprimi E sei poi tra l'altro Narratore Direttore artistico Camera Ma anche regista Scenogliatore Scenografo Di tutto quanto Questo film Che poi è la tua vita Quindi poi capito Succede qualcosa Che cambia E la gente fa Cioè scusa La puntata 126 Desperate those wives Per favore E tu fai tipo Ci manca la protagonista E quella è tipo Non c'è una struttura E sei abbandonata In una roba gigante Ma poi Chi dovevo guardare Cioè Oggettivamente Ti viene in mente Cioè Che cosa potevo saperne Cioè Non avevo idea No esatto Non c'erano esempi prima Non c'erano esempi Cioè ora sappiamo Quali sono Esatto Sappiamo ora Quali sono i rischi Di far recitare Un bambino Tantissimo Che poi c'erano Degli aspetti Super positivi Anche presi bene Cioè Arriva il brand Ti fa Oh io 10k Ci fai i contenuti Eh sì Cioè tu non l'hai mai vista In la tua vita E fai tipo What Cioè veramente Volete che io faccia Questa cosa Cioè Sto in fissa Adesso ti faccio Il video più figo Della storia Cioè Questo brand Tra l'altro Sto in fissa Con questa cosa Io Sono la prima Consuperentrice Di questa cosa Lo facciamo E c'è tutta una creatività Una roba Cioè Dietro c'è un mondo Cioè in realtà poi Non l'ho mai vissuta Come un lavoro Ecco tipo Ti ricordi All'inizio Hai detto Se la vivi Come un lavoro Poi devi fare Tot video al giorno Tot cose al giorno E io non l'ho mai vissuta Non l'ho mai vissuta Come un lavoro Mai E secondo me Guarda che questo Da una parte è stato bello Ma dall'altra è gravina Perché poi Non ti rendi conto Che c'è tipo Non c'è regolarità Poi magari Non dormi neanche la notte Non hai gli orari Secondo voi Che cosa Possiamo far portare A casa Da uno spettatore Su come affrontare In modo sano I social Il mio consiglio è Magari Come ho fatto vedere All'inizio Magari non l'abbiamo lasciato È Farsi un dump phone Cioè Stupidizzare il telefono Mettere dei limiti Tipo ora sono le tre E se io clicco Instagram Non posso Usare Instagram Lo posso usare La tua schermata Non mostra più le applicazioni Ma soltanto una lista Dopo me lo fai Dopo te lo faccio Sui due telefoni Guarda Cioè tu sei L'esagerazione Di quello che stavo Madonna Non uno Due Madonna Greta Dopo ne parliamo Dopo E questo È l'unico modo Perché è veramente Una droga Cioè è veramente Una droga Scrollare Ci sono cascato Tante volte Ho dei periodi Io ho capito E per fare una doccia Quattro ore Ti sto pregando Io spesso faccio la doccia Col telefono in mano E poi devo lavarmi La parte del telefono Quindi lo appoggio un attimo Ma ci metto qualcosa Capito Un video Qualcosa Io l'avventura l'attacco Sulla vasta Ho avuto un rapporto Molto più sano Con la morfina In ospedale Perché era limitata Se te l'avessero lasciata In tasca tutti i giorni Non posso stare in silenzio In ogni momento Perché qualcuno Non sta parlando Ma la domanda Io per esempio Non ce l'ho Questa cosa Ma che cosa succede Quando smetti Questa è la cosa Che mi ha sempre più affascinato Di affrontare te stesso Ecco che succede Ma in maniera anche Molto più semplice Cosa senti Cosa provi Nel momento in cui Non lo fai Inizia a grattarti Innanzitutto No Inizia a vivere Sono momenti bellissimi Quando non lo usi Perché ci deve essere Niente di serio Che ti dici come sei Fai bene Stiamo recitando qua No Effettivamente Allora Questo succede Dici Allora C'è una parte di scimmia Ma è inconsapevole Cioè Io mi accorgo Di quanto Apra Instagram Involontariamente Solo da quando Ho il dumb phone Perché Ogni volta che ci clicco Mi dice È importante Ho cinque volte al giorno In cui posso guardarlo Per cinque minuti Instagram E quando mi si apre Sta schermata Mi accorgo Di averlo aperto Cioè Per dire che lo faccio Così in automatico Che non me ne rendo conto E Invece Quando non lo faccio Quando non uso il telefono Sono i momenti più produttivi Della mia vita Cioè il problema È che mi succhia produttività Mi succhia creatività Mi succhia Un sacco di energie E Ti rendesse solo Improduttivo Potrebbe anche essere positivo No Questa tua battaglia Dell'improduttività Non la combatteremo insieme Io seguo Martina No ma poi non parlo di produttività Noi ci annulleremo Penso di Cioè Toglie il tempo A fare qualcosa Nella vita Produttivo Dico anche leggere un libro Produttivo E infatti Io ho iniziato a fare Video su YouTube Per mettermi Dall'altra parte Perché ero dipendente Già prima Non producevo Allora io mi sono messo a fare L'eroina Per il mio pubblico E Mi sono diventato Lo spacciatore Di attenzioni E Avevo così tanto tempo Da dedicare Alla creazione di contenuti Che non riuscivo a consumarne Ora che è un po' che Ho tolto il piede Dall'acceleratore Della produzione Di droga Mi sto drogando io Questa cosa vera Clippatismo Sì sto sbagliando Cioè sto parlando di content Sto parlando di content Esatto Cinque secondi fa taglia Comunque tu stai Cioè questo vuol dire Tenere la cosa più preziosa Che abbiamo al giorno d'oggi Che è la nostra attenzione Cioè è la cosa più preziosa Tutti la vogliono Tutti Qualsiasi piattaforma social Vuole il tuo watch time Vuole la tua attenzione La tension economy Sì È la cosa che costa di più È la tua attenzione E il tuo tempo E facendo così Tu sei veramente forse libero Sì 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 Se riesci a toglierti dal Sei libero O dare la tensione in qualche ore Dedichi tre ore Voglio sapere la risposta sua Ti hai fatto la domanda Ti sei dato la risposta Sì Ci piace Perché Questo è Capito Perché questa è Una di formazione Professionale Ciao io sono il problema La risposta Il genere manager Tra l'altro sono bellissimo E ho delle bravi I bicipiti Non avete visto i bicipiti No ti sono rovinato Perché adesso No beh quindi Alla luce del fatto Che questa Dipendenza Nevrosi Come vogliamo chiamarla Gioventù Sembra che abbia Dei risvolti positivi Quando poi la interrompi Lo vedi immediatamente Allora La distanza Che non riesci a prendere Come Come si può Arrivare a un punto Dove le resistenze Che incontri Le resistenze Che incontri Sono minime Hai più consapevolezza Del fatto Che Lo stai facendo In maniera involontaria Ma guarda Io non mi occupo Per esempio Di social Nel mio fare ricerca Però Quello che vedo In terapia È che Quando Si lavora Con i pazienti E i pazienti Devono fare qualcosa Di nuovo Di diverso Tendenzialmente C'è una sorta Di picco Per cui Provano molta ansia E si angosciano E spesso poi In quel momento Si confondono Perché Quell'ansia E quell'angoscia Diventa Allora sto facendo Qualcosa di sbagliato O non è questa La direzione giusta In realtà Che è un po' Simile Per quello Ti chiedevo Che cosa provi Nel momento In cui Magari Non c'è campo Oppure Tenti di Non stare al telefono Tutto il tempo Ed effettivamente È una sorta Di attivazione Di arousal All'interno Di ansia Di angoscia Il punto È cercare Di sopportare Proprio Riuscendo ad esserne Consapevoli Magari Se diventa Una vera e propria Dipendenza Da internet Anche facendosi Aiutare Però a superare Quel picco E quel momento Perché poi scende Anche quell'angoscia Poi tende A scemare E se riesci A passare Quel momento Effettivamente Poi impieghi Il tuo tempo In un altro modo Che per esempio È Come dire Riuscire a sostenere Quello stato emotivo Per essere Traghettato Verso qualcosa Di più sano Di più giusto Infatti l'ansia Non è sempre Solo un sentimento Negativo Un'emozione Negativa Un affetto Negativo Ma è anche qualcosa Che Proprio perché È qualcosa Che ci può segnalare Che stiamo facendo Qualcosa di diverso Di meno familiare Ma non è detto Che questo qualcosa Di diverso O di meno familiare Sia negativo Quindi No È un po' come Come il Embrace it Soffrite di fomo? Fear of missing out Di omo Joy of missing out Tu hai la fomo? No Io ho fatto la domanda Me la rifai Così Cioè Volevo fare quello Che ho fatto io Esatto Volevo No Io Mi è successo Però poi In realtà Mi parto a stare bene Nel Nel mio Banale Semplice Inutile Presente Ok Mi piace Ok Eh non farò niente O comunque Però ti posso dire Sto bene Non esco Sto a casa Ma quel tempo Che passo con me Io sto in fissa A passarlo con me Perché ci sto bene E quando non ci stavo bene Ovviamente era più difficile Però Secondo me Tutti quei momenti In cui appunto Ti viene spontaneo Andare ad aprire l'app È memoria muscolare Ed è un'abitudine Che tu hai E che Come ogni abitudine Puoi toglierti E renderti conto Di qual è poi L'alternativa Che è quella Di Affrontare Qualcosa Che non vuoi fare Non vuoi pensare Non vuoi analizzare E quando poi Lo vai a fare È uno Sbatti Enorme Ed è Grainsa Ma ci sta Pia Ci sta pure stare male Perché adesso Tipo Si tende sempre a demonizzare Tutte le robe che non sono positive In più In bene In felicità Ci sta Essere tristi Piangere Ci sta Farsi male Ci sta sbagliare Fare un casino Però l'importante è tipo Non puntarsi il dito contro E dire Vabbè Ok Va bene Ci ho fatto veramente una cagata Però adesso Cioè Non determina Quello che è stato Quello che è sui social Quello che è La mia persona Cioè Sono libero da questa cosa Davvero Se ci penso Sì Devi passare del tempo con te Senza il telefono Per pensarci Perché ogni Secondo che inizi a pensarci Poi apri l'Instagram E fai tipo Ah guarda Questo sta a Ibiza Questo sta a Malibu Perché io sto a Tiburtino Cioè Però lo vedi come il discorso Scusa se ti ho interrotto Lì ti viene la famo Perché sta a cerca fuori Però è sempre tutto È sempre tutta una lettura Dell'esterno rispetto a me Cioè Non è mai Un investimento su Mi interessa Questo argomento E magari anche In maniera compulsiva Come l'hai definita tu prima Cerco Studio Creo Produco Content Su quell'argomento Diventa sempre Un modo Per Valutare Quanto sono brava Quanto Quanto io ho Le cose Che hanno gli altri Quindi È sempre tutto Un termine di comparazione Ed è questa La parte più disfunzionale Secondo me Anche dell'uso Dello scrollare E quant'altro È facile caderci Secondo me Soprattutto per le persone Che ci si approcciano all'inizio Per dire adesso Cioè Sto così bene Che non mi viene Spontaneo Fare Seguire questa dinamica Cioè Guardo quello Che Si dici I social non li usi Se stai bene Capito Non fai delle foto Poi torno Faccio delle robe Fighissime Ma non mi viene Spontaneo Riprendere Anche perché Se le riprendi Sei parte Di quella Di quei creatori Di invidie E Comparazione No Comunque Io prima Giravo sempre Quella video Cioè io Qualsiasi cosa Che facevo Giravo con il computer E la videocamera Era diventata una roba Da pazzi Cioè Montavo il video In orizzontale Cioè Cioè No Perché hai smesso? Eh? Perché non lo fai più? I video? Ma in realtà adesso Con il podcast Mi sto riapprociando Non li faccio più Perché Il livello di perfezionismo Era diventato tipo Impressionante E farlo come Come ha fatto Nicolo Balini Che ha fatto la Poi è ritornato A essere perfezionista Però da Human Safari Era troppo perfezionista Ok io adoro Human Safari Era troppo perfetto Quel canale Faceva le giuste views Iniziava a pesargli La creazione Allora aperto Nicolo Balini Dove pubblicava video Più semplici Senza estremi montaggi Solo clip Non mi nutre No Non mi nutre più Cioè Appunto Cerco fuori Altro Magari poi Mi viene Ovviamente Youtube C'ha la sua Cioè È anche abbastanza Una dipendenza Capito? È proprio bello Lo fai Lo registri Se l'hai fatto Lo sai che è un po' Una dipendenza Soprattutto se l'hai fatto Che ti Ti nutre Quando poi ti nutre Qualcos'altro Può essere anche offline Quindi adesso con la recitazione Qual è la cosa più grave Che può succedere Sparisci Ok No ma non esiste Esiste altro Cioè Non è così Catartico Capito? Sì O ci sei in misura Diversa Poi la recitazione Sì Ad esempio Per dirci Cioè Sto studiando ancora Recitazione Però c'è il fatto Che io non lo condivida Così tanto Sui social Prima di questa volta Io l'abbia Forse l'ho accennato In un mio podcast Però È comunque una cosa Che mi prende Completamente Però insomma Non puoi chiudere Tutti i social No no Sì No Si può trovare Come dicevi prima Capito Nello strumento Un utilizzo Sì Però Vorrei anch'io Dargli un orario Eh Datti dei limiti No Vorrei dargli un orario Perché delle volte Non Ma una roba che Su quale mi interrogavo Prima A proposito Del rapporto Con il prossimo Che è Sempre validante Di sé Eccetera Una strada Non può essere Quella della sospensione Del giudizio Cioè prima ancora Di arrivare Alla comprensione Delle cose Alla semplice Accettazione È difficile Secondo me È uno step Molto avanzato Soprattutto per chi Poi tende a A pensare Di Di avere Tutti gli strumenti No Per modificare La realtà E per Intervenire Su Questa Quindi È molto Molto Difficile Però Vorrebbe dire Accettare il fatto Di non avere Di non avere Strumenti Necessariamente Efficaci Di poter Di dover accettare Anche di non Riuscire ad operare Un cambiamento Del mondo In questo senso Sì Sì Che ci sono Effettivamente Delle realtà Che non Dipendono Da noi E delle situazioni Che non dipendono Da noi E quindi Arrivare ad Accettarle E a sostenere Poi emotivamente Tutto quello Che l'accettazione Comporta In primis Un vissuto Di impotenza È abbastanza Credo richieda Una strutturazione Interna Non è così Non è così Semplice Propongo di cogliere La sfida Qualcuno Cioè di smettere Di chiedersi E di analizzare Le cose E di accettarle Guarda c'è una Una delle mie Più care amiche Che ha questa teoria Che si chiama Teoria del traffico La teoria del traffico Dilaria Nello specifico La teoria del traffico Dilaria Prevede che Se tu stai In coda Per esempio In tangenziale Insomma C'è un sacco di traffico Che cosa fai Inizia a pensare A tutte le possibili Scorciatoie Quindi cambio Google Maps Piuttosto che Trovi la stradina Nella migliore Delle ipotesi Ti imbottigli In una nuova situazione Quindi Quello che lei Una volta Raccontandomi Questa sua teoria Che trovo francamente Meravigliosa Mi ha detto In realtà Quello che devi fare È metterti In santa pace Con la santa pazienza In coda E aspettare Che il traffico Diminuisca Il che Simbolicamente Secondo me È molto importante Cioè della serie In alcune circostanze Quello che puoi fare È restare immerso Cercando di Tollerare Di sostenere Ed elaborare Tutti i vissuti Che quella circostanza Quella situazione Anche se sono negativi Ti comporta Senza provare A trovare delle strategie Delle scorciatoie Che il più delle volte Ti ingabbiano Però Del resto nel traffico Siamo in tanti Sì Però come ci ci senti Del resto nel traffico Siamo in tanti Esatto Come dire Quando sei solo Non ti preoccupare Non sei solo Ad essere solo Esatto Però Non lo so È così bello Riuscire a Non lo so Vedi che tutti Stanno uscendo Dalla stazione Cioè Ci sono dieci porti Apribili E tutti entrano in una Quanto ti senti cool Aprire una di quelle porte Chiuse Che sono apribili E crei un'altra fila Di persone Che seguono Che entrano in un'altra porta C'è Però la vita Non è fatta solo Di quello Cioè Di percorsi Non utilizzati Riuscire a non seguire Poi sei fortunato A riconoscerli Però ci si allena Spesso Una vita intera Per trovare Una via Da pionieri Non è Non è la regola Di solito siamo Incanalati All'interno di percorsi Rodati Tragitti Eh Ma perché Allora Ci sta a accettare Le situazioni Quando secondo me Non c'è effettivamente Una via d'uscita Non incancrenirsi Non dire Oh Che palle Che sono bloccato nel traffico No È l'unica soluzione Però se vedo che c'è Un'altra soluzione La colgo subito Indubbiamente Ma indubbiamente Nel momento in cui Un'altra soluzione Un'altra situazione È più efficace È più adattiva Ti fa stare meglio Sì Per carità Altrimenti diventa Psicopatologia Anche quella In corsia di emergenza Esatto Però vedi anche Anche questo Mi faceva molto Mi ha colpito un sacco Quello che hai detto Perché è spesso Una dei temi Che portano i pazienti No L'idea di Di essere pionieri Che poi tradotto Magari nel mondo Personale di ciascuno Non È essere speciali Cioè essere Essere il meglio Del meglio Di quello Che possono essere Quindi Però questo spesso Poi diventa Molto Difficile Emotivamente Da sostenere Un incubo Un incubo Perché Dove essere speciale Esatto Perché Insomma Quanto puoi essere speciale È Equivale A essere te stesso E a sentirti apprezzato Per quello che sei Perché poi di base Possiamo raccontarci Tutto quello che vogliamo Ma quello di cui Tutti noi abbiamo bisogno Sono Di base Le stesse cose Essere amati Essere Riconosciuti Mangiare Bere A parte Vabbè Bisogni primari Nella piramide di Maslow Ma a parte quello È una grande libertà Chiaramente Però È di fatto Essere amati Non devo per forza Essere speciale Posso tirare Un sospiro Di sollievo E come Dice Zero Calcare Siamo solo fili d'erba Che grande sollievo Non avere questa responsabilità Sulle spalle Di essere speciale Comunque Martín Quello che dicevi Di assenersi dal giudizio Io È qualcosa A cui mi sono Approcciata Ed è difficile Sì è vero È una cosa Veramente Avanzata Poi nella comprensione Nell'approccio Nei rapporti umani A livello proprio Antropologico Ti viene da esprimere Un tuo giudizio Cioè è una cosa Che viene proprio Automatica Anche Ti prendi a carico Che non è necessario Puoi anche lasciare andare Cioè osservare Non assorbire Ogni cosa Che ti circonda Ma lasciarla andare Per come è Non potire diventare indifferente No assolutamente Non tenertela con te Non colorarti di ogni colore Che ti tocca Cioè lasciarti attraversare Vivere Sì farsi Cioè sì Farsi toccare Farsi travolgere Però rimanendo sempre centrati Non facendosi portare Proprio via Da tutti gli impulsi Perché Noto che Diventare proprio Come un flipper Almeno a me è successo No Un flipper Ah è così Devi essere così Ma poi così Poi così Poi diventa Tutta una roba Che poi Dici ma Io dov'è la mia isola Cioè Dove attracco la mia nave Io non ho più il mio centro Ho bisogno del mio centro A fine giornata Cosa che Dove mi sento al sicuro Invece no È bello essere centrati Navigare Ma poi sapere che comunque Cioè Nessuno ti può togliere te Capito Come sei fatto te Dove stai andando tu Greta Dove navighi Dove Guarda Sto cercando di approcciarmi All'idea Di avere un programma Capito Perché Mi sento che Ci sono tante cose Che mi coinvolgono Che mi fanno stare bene Sicuramente Il cinema Anche se ti giorni Ti giuro Vedi tipo Lasciare tutto E sperimentare Quell'ebbrezza Di dire tipo Guarda sono un essere umano Sul pianeta Posso letteralmente Fare tutto Non è così necessario Proprio mi sento tipo No non posso lasciare La mia mamma Ma che cosa significa Essere un essere umano Nel pianeta Passare a correre Su quattro zampe Connettersi Proprio con l'acqua Tipo così primordialmente Semplice Semplice Ma anche un privilegio Comunque al giorno d'oggi Da poter avere Mi ha fatto riconnettere Con me E allora Lì mi sono sentita Di nuovo in grado Di poter fare tutto Quindi adesso Se mi chiedi Dove stai andando Ti dico sempre Nella direzione Di una scoperta Di una crescita Con un'assenza Di giudizio In primo luogo Nei miei confronti Perché se continuo A giudicarmi Ogni cosa che faccio Io mi sto Completamente Sempre mettendo In mezzo la strada Non riesco proprio mai Ad andare avanti Perché mi sto Sabotando Capito Quindi sicuramente Portare avanti Quelle che sono Le mie passioni Però comunque Prendendomi cura Di me stessa Davvero Capito Dopo mi metti Quella cosa Sui telefoni Sui telefoni Nei due Che forse Magari lo porta uno Perché così Non servono più Perché hai due telefoni Non so se puoi dirlo In camera Spacci E che è una cosa tipica Per la batteria Capito Così ce l'hai Ma scusa Comprati un power bank Così devi avere Accedi a Instagram In due telefoni diversi Perché mentre fai una cosa Voi ne fai anche un'altra È una follia Cioè così stai così Infatti dopo Uno lo togliamo E mi metti Sì 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 Il Dumbify Grazie Come Quindi reciti Ok Vai verso la recitazione Ci sta Cinema Mi appassiona molto Ovviamente sto portando avanti Anche la musica Però Sì E il podcast Anche tu Collega Collega di podcast Le mie prime armi Interessante Tra l'altro Questo è il mio primo podcast Infatti grazie Dell'esclusiva Mi ha fatto molto piacere In realtà Cioè sapevo che sarebbe stata È il vostro primo podcast È il nostro primo podcast Sì sì Abbiamo un sacco di podcast Da fare In questa piena Podcast senza microfono Dici Sonia Beh ormai siete volati Infatti sicuramente da Dio Una puntata A cui a me è piaciuta tantissimo Per temi toccati Infatti Sì anche a me Grazie 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 a me Cristina e Greta Grazie Grazie a voi Grazie a voi Comprimiamo così Grazie 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 a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti